In questa video-lezione noi ci concentreremo sulle idee politiche di Francesco Petrarca. In particolare torneremo a analizzare alcuni momenti della sua biografia. Francesco Petrarca è stato ospite di molti potenti, è stato ospite dei Colonna e del Papa. Ad Avignone ricorda come evento fondamentale della sua vita l'incontro a Napoli con Roberto D'Angiò. È stato anche a Milano presso i Visconti, a Venezia nella Repubblica Veneta e nell'ultimo periodo della sua vita è stato a Padova presso Ida Carrara. Questo vuol dire che Petrarca matura l'idea, che poi sarà anche fine della sua figura e ruolo intellettuale, della collaborazione tra l'intellettuale e la politica. Secondo Petrarca l'intellettuale e la politica devono collaborare. Certo, i rapporti possono essere anche problematici, come il caso dell'ultimo periodo che Petrarca ha passato ad Avignone, i rapporti col Papa che erano in Colonna hanno diventato difficili, ma questo non vuol dire che l'idea centrale di Francesco Petrarca, cioè che fosse fondamentale alla collaborazione tra l'intellettuale e politica, non potesse realizzarsi in altri contesti. Dante si era sempre definito un exuli meritus e aveva vissuto l'esilio come dramma, come lacerazione profonda dalla sua città, nella quale ha militato, ha ricoperto cariche importanti e quindi ha vissuto la seconda parte della sua vita, dopo il 1300-1302, in una condizione appunto di esilio, di condizione appunto di persona che impara a conoscere quanto sa di sale, il pane altrui, quanto è difficile salire e scendere le scale dei potenti. Tutto ciò non ha invece valore per quanto riguarda Francesco Petrarca, perché Francesco Petrarca nasce in esilio da genitori che sono stati esiliati nello stesso contesto politico di Dante Lighieri, ma nasce in esilio. Quindi per lui l'esilio non è una punizione, ma è la condizione essenziale dell'uomo su questa terra e quindi come appunto diceva di se stesso, peregrinus ubique, quindi ovunque Petrarca poteva porgere i propri servigi e riceve naturalmente protezione e qualcosa in cambio appunto da parte di questi intellettuali. Per cui se Dante talvolta nasconde le famiglie presso cui si trovava appunto a soggiornare, Petrarca invece li definisce con molta chiarezza e soprattutto definisce il proprio ruolo quando si trova appunto ospite di queste famiglie. L'idea politica di Petrarca parte da un'affermazione, cioè Petrarca crede nella rinascita di Roma, una Roma che nell'intenzione di Petrarca doveva fondere il mondo antico di cui era stata, in effetti capitale e la cristianità di cui appunto era capitale nonostante il periodo che lui stesso definirà di cattività vignonese del Papa. E quindi Petrarca cerca appunto di unire questi due contesti sia da un punto di vista letterario, ma su questo ritorneremo in un'altra video-lezione, e sia quello che interessa in questa video-lezione da un punto di vista politico. Il punto di riferimento naturalmente era la Repubblica Romana, e proprio su questo torneremo con la slide attuale. L'incontro che Petrarca ebbe nel 1343 a De Vignone e a Ancola di Rienzo cambia profondamente la sua visione del mondo e del rapporto con i potenti. E' stato un incontro veloce, ma un incontro che ha segnato profondamente la biografia di Petrarca e soprattutto l'evoluzione delle sue idee politiche. Di fatto, Colla di Rienzo presenta al Papa, alla delegazione papale, comunque insomma anche al Francesco Petrarca, la condizione di Roma in cui appunto i nobili attuavano una politica di oppressione nei confronti del popolo. e nello stesso tempo auspica un governo repubblicano che potesse in qualche modo mettere fine al potere dei nobili, ma in maniera non del tutto velata, comunque anche al potere della Chiesa. Queste sono appunto le idee che Colla di Rienzo avrà scambiato sicuramente con Francesco Petrarca e che pongono Petrarca in una condizione di cambiamento della propria riflessione politica. Qui probabilmente comincia a incrinarsi anche il rapporto di Petrarca con i colonne e con il Papa d'Avignone, ma andiamo per gradi. In diverse lettere, subito dopo questo incontro, Petrarca ritorna sull'incontro con Colla di Rienzo, in particolare sulle conseguenze che ha avuto su di lui appunto questo incontro. In una lettera addirittura definisce Colla di Rienzo un uomo mandato alla Provvidenza, insomma, e il progetto politico di Colla di Rienzo è indicato come una sorta di ritorno all'età dell'oro, quindi Petrarca che è pronto a scommettere su Colla di Rienzo, è pronto anche a seguire Colla di Rienzo, tant'è vero che appunto si sposta dalla Francia in Italia e va appunto, almeno questa è l'intenzione di Petrarca, quella di andare verso Roma, anche se si fermerà prima. E si fermerà prima per varie ragioni, insomma, per una ragione che potrebbe essere legata all'evento pestilenziale che colpisce tutta l'Italia, ma anche per una ragione perché il progetto politico di Colla di Rienzo dura il giro di pochi mesi. Nel 1347 appunto Colla di Rienzo prende il potere, comincia quello che aveva di fatto propugnato, cioè una lotta senza quartiere contro i privilegi dei nobili, e nello stesso tempo attua, cerca di portare a termine i provvedimenti in difesa ai deboli. Questo comportamento, questo atteggiamento naturalmente porta a una durissima opposizione nei suoi confronti da parte dei nobili, ma anche da parte degli ecclesiastici, che appunto comunque godevano di uno status privilegiato che non è accontemplato nel disegno di Colla di Rienzo. Questi sono i provvedimenti e il clima di Roma all'arrivo, alla presa del potere da parte di Colla di Rienzo. Poi assistiamo a un cambiamento, a un riatteggiamento di Colla. In pochissimo tempo Colla è probabilmente attratto, colpito, sedotto dal lusso, i suoi provvedimenti diventano sempre più dei provvedimenti dispotici, violenti, tant'è vero che appunto qualche mese dopo aver preso il potere è costretto a scappare da Roma. Ed ecco che, come avevamo accennato precedentemente, tornando quindi al nostro Francesco Petrarca, le idee che si erano scambiate con Francesco da Vignone portano Francesco a un ripensamento della propria posizione politica, o meglio, a un approfondimento della propria posizione politica, cioè a una riflessione sul ruolo che l'intellettuale deve avere nei confronti dei potenti. Un ruolo importante non soltanto di sottomissione, come poteva essere quello che Petrarca notava ad Avignone, cioè una sottomissione a un potere, quello dei colonni, ma in particolare quello del Papa, appunto nella sede papale di Avignone. Petrarca pensava un intellettuale che potesse parlare allo stesso livello con i potenti stessi. E quindi queste riflessioni, approfondimento di queste riflessioni, portano di fatto a una crisi tra Petrarca, il Papa, e soprattutto i protettori di Petrarca d'Avignone, e cioè la famiglia dei colonni. Negli anni, immediatamente dopo l'incontro con la Lidienza, ad Avignone, Petrarca, nelle sue lettere, si fa il portavoce di un intellettuale pronto a scendere in campo in battaglia contro la corruzione avignonese, contro appunto quello che poi definirà la cattività avignonese. La prigionia, appunto, del Papa, della sede papale ad Avignone. Nello stesso tempo, appunto, Petrarca, con i suoi scritti, o le sue lettere in particolare, si fa portavoce del ritorno della sede papale a Roma, invita l'imperatore Carlo IV a un maggiore interessamento alla situazione italiana, talvolta anche biasimandolo per alcuni suoi comportamenti, e soprattutto invoca la pace tra le città italiane, vede che, insomma, i troppi conflitti che ci sono tra città italiane, tra signori di città italiane, non può portare altro che a nuocere e inasprire un clima già di per sé non facilissimo. A questo punto possiamo tornare a quella diapositiva a quale appunto abbiamo messo in evidenza i potenti che sono entrati in contatto con Petrarca nel corso della sua esistenza e possiamo dire che quell'idea di un rapporto tra intellettuale e politica si approfondisce e soprattutto in questi anni di fatto Petrarca elabora un modello di intellettuale che sarà poi il modello dell'umanesimo, cioè un intellettuale che scende a compromessi, che viaggia, che si ferma, che soggiorna spesso anche per tutta la vita in una corte e accettando naturalmente questa protezione a parte di questa corte nello stesso tempo ricompensandola con il suo ruolo di intellettuale. Questo appunto deve essere successo con Petrarca a Milano presso i Visconti e sicuramente a Padova presso i Dacarrana. Certo, questa accettazione della signoria e quindi del potere del signore porta Petrarca e l'intellettuale più in generale dell'umanesimo a dei compromessi che possono pesare di più o di meno a seconda appunto di come si sente questa pressione o questo potere politico. e la questione doveva appunto essere anche abbastanza chiara al stesso Francesco Petrarca perché i suoi amici come appunto lo stesso Giovanni Boccaccio lo accusano di legittimare con la sua presenza appunto in questi palazzi signorini e i sconti da Carrara di fatto legittimare dei governi che sono i liberali direi ma con un termine moderno e quindi gli amici mettono in guardia Petrarca da questa accettazione di un modello intellettuale che scende a patti con il potere centrale con il potere appunto di un signore e questo aspetto soprattutto perché mosso dalle accuse fatte ricevute dai propri amici spinge Petrarca a cercare di puntualizzare meglio la propria posizione in questa materia Petrarca infatti si difende constatando l'inevitabilità della scelta del governo signorile e quindi l'inevitabilità del fatto che le contese interne Guaifidi Bellini e vari partiti abbiano portato il comune stesso a richiedere l'intervento di un podestà primo di un signore poi successivamente quando poi il podestà si è mantenuto al potere e l'ha trasmesso per via ereditaria e quindi probabilmente il governo di un signore è la naturale conseguenza di quei litigi di quelle lotte che hanno caratterizzato i comuni non solo della Toscana nello stesso tempo Petrarca si rende conto che accettare questo questo soggiorno da parte di signori vuol dire accettare appunto il cibo il pranzo che viene passato accettare una sorta di stipendio se non insomma l'alloggio quindi accettare vitto e alloggio può ovviamente inclinare la libertà dell'intellettuale ed ecco che la libertà proposta da Petrarca per l'intellettuale è quella di coltivare gli studi cioè questi signori darebbero a Petrarca la possibilità di fare quella cosa che lui in prima persona ma che l'intellettuale dovrebbe comunque fare come suo compito cioè quello di studiare di coltivare gli studi di leggere i classici antichi e qui ritorna un concetto su cui poi specificeremo meglio in un'altra video lezione quindi di fatto è vero che si accettano i compromessi per quanto riguarda appunto il vitto e l'alloggio però dall'altra parte si può guadagnare in quella libertà di coltivare i propri studi e soprattutto e questo è poi il passaggio più delicato Petrarca è convinto che il signore debba mostrare rispetto nei confronti dell'intellettuale perché intellettuale può dare lustro prestigio appunto alla corte e quindi di fatto sarebbe compito dello stesso signore quello di salvaguardare l'autonomia dell'intellettuale stesso questa è una visione sicuramente molto interessante possiamo dire che la visione che poi diventerà consuetudine di qui a pochi anni quando appunto nell'umanesimo rinascimento l'intellettuale sarà fondamentalmente un intellettuale cortigiano anche se l'intellettuale cittadino non scomparirà certo questa presa di posizione di Petrarca è chiaramente una presa di posizione che si presta a delle riflessioni moderne molto molto particolari ma su questo insomma non mi soffermo perché vorrebbe dire intervenire con delle categorie di pensiero che potrebbero appunto nuocere alla situazione del momento dobbiamo quindi sempre ricordare che Petrarca vede appunto la libertà dell'intellettuale come una libertà condizionata da una serie di fattori naturalmente l'intellettuale non può vivere della sua opera non c'è ancora un mercato libraio che possa in qualche modo permettere all'intellettuale di sopravvivere vendendo libri e quindi se veramente vuole fare quello che ha piacere di fare cioè scrivere libri deve in qualche modo rispettare adeguarsi ad alcune regole poi se queste regole sono particolarmente gravose da accettare o no questo ovviamente dipende dai singoli intellettuali ma anche dai singoli signori di sopravvivere 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 di sopravvivere